Ciao ancora ragazzi, eccoci con un altro video su Fallout 4 Visto che quei mattacchioni di Bethesda hanno fixato il precedente trucco disponibile nella versione 1.0 e 1.1 Sono andato a scovare un nuovo trucco per i soldi infiniti, per i tappi infiniti E sotto un certo punto di vista è addirittura migliore di quello precedente Perché vi farà ottenere quasi 2000 tappi in un minuto E potete ripeterlo all'infinito questo procedimento Allora per prima cosa dobbiamo andare a Covenant Che si trova qui Vi do come punto di riferimento qua il Drive-In in Starlight, qui c'è Covenant E dobbiamo attivare la quest Errore Umano Parlando con il buon questo qua, come cacchio si chiama? Dan L'Onesto Saltiamo la conversazione, sono di passaggio, subiamo, bla 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 Certo che so qualcosa di... com'era il nome? Sì diciamo che sappiamo tutto, andiamo avanti Ok qui ci proporrà appunto un accordo, io ho saltato tutta la conversazione per non spoilerarvi la missione E andiamo su Accetto Mi sembra giusto, ci sto Ecco tutto quello che so sulla caravana Non ho prove Ok A questo punto partirà la quest Errore Umano Arrivato poi ad un certo punto della quest, ora io la salterò Dovremmo fare la seguente Ok, arrivati a questo punto parlate con la dottoressa Saltiamo tutta la conversazione per non scoglierare il contenuto della quest Andiamo avanti, andiamo avanti, però facciamo attenzione a quante volte premiamo X Perché arriveremo ad un certo punto della conversazione dove Dan L'Onesto ci dirà Scegli o me o lei, quindi avremo la possibilità di accettare o rifiutare la proposta della dottoressa Dopo queste interazioni ci dovrebbe essere appunto l'opportunità Perfetto A questo punto noi dobbiamo rifiutare l'offerta Premiamo rifiuta Non posso accettare Ok E ci dirigiamo verso il nostro terminale Andiamo al terminale E sblocchiamo la cella numero 1 Ok A questo punto parliamo con Dan L'Onesto E partirà la conversazione che dovrebbe essere di fine questa Gli diciamo siamo una bella squadra Lavorare con te è stato un piacere Sono stato felice Lui ovviamente ci dirà che è stato felice di stare con noi E ci darà i nostri 300 tappi Io prenderò la mia da Stockton A questo punto non premete più X Perché se noi premiamo X e accettiamo Abbi cura di te Diciamo lui finirà la quest Aspettiamo che finisca l'interazione Vedete? E ci dà la possibilità di allontanarci Premiamo di nuovo X E ripartirà di nuovo la conversazione E di fine quest Premiamo di nuovo siamo una bella squadra Ecco la tua parte Qua ci dà di nuovo i 300 tappi Noi ci allontaniamo di nuovo E riparliamo di nuovo con Dan Così Stockton riabbraccia sua figlia Possiamo saltare la conversazione Facendo attenzione a premere X Un paio di volte Ecco la tua parte Ok E ci allontaniamo di nuovo Vedete? Arriviamo a fare quasi 2000 tappi in un minuto Quindi questo trucco è migliore rispetto al precedente Perché ci fa fare molti più tappi Lavorare con te è stato un piacere Sono stato Ecco la tua parte Ok Vedete? Ancora una volta altri 300 tappi guadagnati A questo punto voi potete guadagnare un'infinità di tappi Vedete? Sono io a 20.000 tappi Perché ho ripetuto questa procedura Più e più volte Arriverete a 20.000 tappi in circa 10 minuti Approssimativamente Ok ragazzi Questo video finisce qui Io vi ringrazio per la visualizzazione Vi invito a lasciare un bel pollice in su se volete Iscrivetevi al canale Troverete tantissimi altri trucchi Consigli Guide Sempre su Fallout Oppure su The Witcher E le varie armature Eccetera C'è da tantissimi video Quasi 90 video Oltre Non ricordo più Ci vediamo al prossimo video Vi ringrazio ancora Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti